L'artigianato è uno dei settori trainanti dell'economia oristanese. Attività che affonda le sue radici nella tradizione millenaria, mutate solo alcune tecniche, ripropone oggi gli stessi motivi e caratteristiche di sempre. Le immagini che i manufatti rappresentano sono espressioni di fantasie e leggende di simboli e di miti che attingono la loro forza espressiva in un mondo misterioso di felicità e solitudine. Un posto di rilievo occupa la ceramica. La bellezza delle terrecotte nasce dalla spontaneità e dall'attaccamento ai tradizionali modi della lavorazione che si sono tramandati da secoli i maestri figoli. La coloritura in verde o giallo è la caratteristica dominante.